...e una posizione che da parte della maggioranza del Partito Democratico vuole delle pubblicazioni dal sindaco per sapere ancora che sta succedendo e che cosa è successo fino ad oggi e il sindaco non risponde e quindi per poi ci vediamo la parte. Consigliere, però io ho già avuto risposto su questo. No, io l'ho realizzato. Allora, il sindaco dice al suo genere di tutti i partitori. Lei mi chiede, sono pervinto che non manderà a un'opposizione di una maggioranza, prima di tuttavia le conclusioni, e prima di discutere dei fatti che sono all'attenzione dei nomi militari che funzioneranno. Ora è evidente che il sindaco definisce, dal punto di vista, diciamo, da una risposta definitiva, diciamo, a raccogliere, chiedo scusa, consigliere, l'aula dei fatti di fatti dovrebbe essere così come state. Il sindaco che andiamo è stato fatto, non troviamo mai, diciamo, la mattina di fatti della mattina. Il sindaco è stato atteso che non potrebbe rispondere. Allora io dico, lei giustamente fa una richiesta, il sindaco non pide la scossa. Quindi, in realtà, non mi devi intervenire, io dico che il bisonte non si va a fare un'opposizione. Il sindaco non deve intervenire, sono un testo argomento. E' che è un'altra cosa? E' 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 un'altra cosa? vi ... vi prego di rimotare i ministri in spedetti e non interrompire la lingua qui ... Grazie a tutti. Grazie a tutti.